L'ho vissuto in maniera serena, nel senso che sapevo che il mister voleva il 100%, magari questo non è stato offerto, però ho lavorato con serenità, anche perché non ho mai avuto problemi con nessuno, ho lavorato, mi sono fatto trovare pronto, quando oggi il mister mi ha chiamato in causa e credo che abbia dato una serenità anche ai miei compagni. Serenità, è questo il life motive di Francesco Forte, l'estremo difensore dopo aver saltato 4 gare di campionato contro Catanzaro, Monterosi, Virtus Francavilla e Fili di Sandria contro Latina è tornato nuovamente titolare. Una scelta che rimette le gerarchie dopo le prove altalenanti offerte da pane. Una serenità ritrovata per il portiere dell'Avelino che dopo qualche svarione di troppo ha lavorato sodo per farsi trovare pronto alla chiamata di Carmine Gautieri. In stagione, Forte ha collezionato 24 presenze per un totale di 2.190 minuti, con 19 reti incassate. Fiducia ritrovata che testimonia l'importanza di un elemento che nella passata stagione ha guidato insieme al restante parte del gruppo la conquista dei playoff. Alla fine del campionato mancano 10 gare, 10 battaglie. La squadra soprattutto dopo il cambio in panchina.